L'avevo promesso che stamani avremo fatto un esercizio rapido, il più rapido possibile quantomeno per la voce. Allora attenzione, cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo sempre ricordare il concetto di come funziona il meccanismo vocale. Come funziona? Funziona che tu devi inspirare e ti devi ricordare che praticamente sei uno strumento a fiato. Quindi il tuo lavoro funziona che tu devi assumere molta aria nel modo più efficiente possibile e poi emettere correttamente questa aria e poi dove la devi mandare questa aria. Dopo che si colora di suono nelle corde vocali la devi mandare nelle tue casse di risonanza personali, quelle che hai tu, i tuoi amplificatori naturali che sono gli spazi che ci sono qua dietro, dentro la bocca ma nel profondo dietro, il palato molle, la gola eccetera eccetera. Con gola mi raccomando non si intende la gola questa a a a che invece ci incasina, d'accordo? Allora questo è il meccanismo che avviene ma poi dobbiamo anche capire che questo movimento avviene per uno scopo che è ovviamente quello di cantare. Ma quando tu canti le canzoni la prima cosa che fai, quella che sto facendo io adesso, è quella di articolare il linguaggio. Lo senti? Quante parole io sto dicendo tutte in fila? Allora se io ti dico la parola per esempio parola, ok? Tu sentirai che c'è una p che non ha suono, d'accordo? Poi c'è una r che ha sì un suono dentro ma di fatto è una consonante che articola. E poi c'è una l che a sua volta ha un po' di suono ma in realtà il vero e proprio suono avviene sulle vocali. Parola? In realtà io sto emettendo un suono sulla a o a a o a ok parola. Quando tu canti se ti focalizzi sul buttare fuori continuamente questa aria che diventa suono, che si arricchisce in queste sfere di risonanza ma ti focalizzi sul fatto che sia sempre un unico flusso, allora riesci meglio a non creare non solo ostacoli ma anche ad andare a cantare le famose note alte, le famose cose difficili nei vari brani musicali che noi facciamo senza troppo affaticarti. Perché? Perché non interrompi continuamente il flusso sia con le consonanti sia perché in maniera così senza pensarci in realtà ostacoli ogni volta perché ricominci da capo. Faccio un esempio, c'è un esercizio che è un classico mio, un evergreen che lo metto da tutte le parti, che fa, usa le parole I am what I am perché come vedete è tutto un grande riempimento di vocali, d'accordo? Allora provatelo con me I am what I am. Se lo sentite e lo proviamo c'è una m all'inizio, una m alla fine e poi c'è una t in mezzo che è un po' un ostacolo, d'accordo? Allora se io tolgo queste consonanti e mi esercito solo ed esclusivamente sulle vocali, io farò aie, uo, aie, sentite che è un unico flusso, mi organizzo per prendere un bel fiato, buttare giù l'aria, lanciarla fuori e tenere bene aperto questa posizione. Ora adesso non starò a fare tutti gli esercizi sulla posizione perché se voi spulciate su YouTube, sulla mia pagina Facebook, ne trovate 8 miliardi di questi video su come si tiene la posizione, l'apertura, il palato molle, la lingua, lo sbadiglio, la contessa, ne abbiamo fatti di tutti i colori, quindi provatelo, stupore, andate a spulciare. Allora teniamo questa bella posizione e proviamo a non perderla quando facciamo le altre vocali, cioè in pratica non fare a, con la bella posizione aperta e poi fare e, e, spiaccicata in questo modo, che no, deve rimanere tutto aperto. Allora proviamo insieme un bel respiro, aie, uo, aie, aie, uo, aie, lo sentite, è un unico flusso che va. Ci aggiungiamo le consonanti e cerchiamo di non ostacolare il flusso. I am what I am, va sempre, I am what I am. A questo punto io sono pronta a cantarla, diciamo così, di solito usiamo un pattern che è un salto di ottava e poi scendiamo giù, 5, 3, 1, d'accordo? Allora, l'esercizio è questo. I am what I am. Io non avrò mai interrotto questo flusso di aria che si muove, perché I am, qualcuno fa I am, perché? Perché va in ansia da nota acuta e quindi, oh mio Dio, si strozza e quindi il risultato è il suono ingolato, invece il suono deve fluire, quindi I am what I am, in modo tale che io abitui il mio cervello e questo percorso è sempre, inspiro e lancio e lancio costantemente e lancio nelle vocali e le consonanti mi servono per articolare il linguaggio ma non per bloccare, non creano un ostacolo. Ora, quando voi andate poi a fare gli esercizi più complessi e soprattutto andate a mettere in pratica questa cosa nelle canzoni, avete tante cose a cui pensare ovviamente, ecco perché io credo moltissimo nell'efficacia degli esercizi, nell'efficacia delle spiegazioni, prima di andare ad affrontare il repertorio, perché poi quando tu vai a mettere queste cose nel repertorio non devi stare ancora a pensare a ogni singolo dettaglio, è ovvio che lo studio della canzone ti richieda di pensare a queste cose e di approfondirle, ma una volta che la canzone l'hai studiata poi basta, cioè il punto è che a quel punto lì devi solo mettere in pratica quello che hai appreso precedentemente facendo gli esercizi, d'accordo? Quindi l'obiettivo è provatevi questo esercizio tutto il tempo che volete, se lo volete approfondire ne trovate miliardi dentro questa pagina, su YouTube, dovunque, e poi naturalmente, lo dico sempre, c'è il corso che è stato pubblicato già ormai un anno fa, che conta centinaia di allievi, grazie, vi ringrazio tutti quelli che l'hanno preso, che lo stanno facendo, eccetera, e che in qualche modo approfondisce proprio questi argomenti sulla voce, d'accordo? Quindi ci sono tutte le basi, tutte le spiegazioni, tutto quello che vi serve poi per andare a prendere il materiale e metterlo in pratica sui brani musicali, quelli che vi piacciono a voi. A fine mese, grande news, uscirà il fichissimo corso avanzato sulle note alte, il belting, riuscire a fare le note alte senza fatica, ma per poter fare quello è necessario aver chiarito le basi, quindi vi trovate tutte queste benedette e allegrissime basi nel corso che è pubblicato su cantafinoallestelle.com Io un'occhiata gliela darei, poi provatevi il vostro I am what I am e poi mi fate sapere cosa ne pensate, d'accordo? Un bacio! Grazie!